Ciao a tutti, io sono LittleGreySimmer e oggi siamo qui con un nuovo episodio della The Case Challenge Eccoci qui con Leonardo e il carissimo Ollie ad abbracciarsi Oggi vi dico soltanto che faremo davvero tantissime cose Intanto guardiamo qui Manca un giorno al passaggio d'età ragazzi Quindi veramente sono davvero emozionata anche perché tra poco la bambina mi diventerà bebè Quindi io non so se oggi appunto riusciremo a far passare dei tale bambine Io sinceramente lo spero perché così diciamo che vedremo un po' se saranno belle come la madre o affascinanti come il padre Vedremo un po' Intanto vi ho postato un sondaggio su Instagram chiedendovi secondo voi se Daphne prenderà l'incarnato della madre Quindi la pelle chiara e il capello della madre e sia quelli del padre E la maggioranza mi ha risposto che secondo voi Daphne prenderà il color rosso dei capelli della madre Io guardate io ci spero anche perché come vedete tutti i figli hanno preso il colore castano del padre Tranne Sam che ha preso un castano scuro e non so come mai Per qual motivo sinceramente Vabbè la genetica di The Sims è anche questo Oggi la nostra missione è innestare la pianta mucca perché ragazzi me l'ero completamente dimenticato Oggi andremo a farlo avremo 4 giorni esatti per poter far crescere la pianta mucca E quindi dare inizio al 1910 Forse oggi la bambina, cioè la neonata mi passa d'età ma non ne sono sicura E vi dico soltanto che Elisabeth oggi è davvero arrabbiata Voi direte perché? Ora vi spiego un po' cosa è successo Stavo giocando in privato e in poche parole Charlotte essendo molto stressata per colpa di Daphne Che piangeva ogni 2x3 Se le pesa diciamo con Elisabeth che suonava il violino qui sotto in cucina Diciamo che la rimproverata dicendo che questo percorso non fa per lei Dovrebbe seguire le orme di Adele Invece di pensare alla musica e a qualcosa che non potrebbe mai portarle futuro Perché essendo donne nel 1900 non c'era tanta possibilità Ovviamente non c'è tanta possibilità di far altro Quindi diciamo che Elisabeth si è davvero infuriata con la madre Ha smesso di suonare e ha scritto sul diario tutto ciò che c'era da scrivere in poche parole Infatti Elisabeth oggi ha intenzione di non andare a scuola Di rimanere a casa Anche perché ha intenzione di capire se Sam è davvero il ragazzo di casa che dice la madre Voi direte perché gli è venuta all'improvviso la voglia di spiare il fratello maggiore Sam Perché appunto Charlotte durante la lite elogiava non solo Adele Ma anche il carissimo Sam Dicendo devi prendere esempio da lui Lui è un uomo di casa Aiuta Non frequenta la scuola Se a lui piacerebbe frequentarla come il fratello Ed è costretto a fare i lavori di casa Dovresti appunto prendere esempio da lui Diciamo che questa cosa ha scocciato Ultimamente Elisabeth ha notato i cambiamenti nel giardino Se il fratello appunto doveva essere impegnato a curare il giardino Perché le piante sono secche Diciamo che lei ha scritto alcuni pensieri sul diario Infatti se non erro ce l'ha nell'inventario Eccolo qui Non lo perde mai di vista Perché potrebbe capitare nelle mani sbagliate E quindi automaticamente perdere tutto ciò che aveva scritto E quindi essere rivelato a tutti Quindi l'obiettivo di oggi è saltare la scuola Perché tanto come vedete ha 10 Quindi può farlo tranquillamente Può saltare la scuola tranquillamente Dicendo alla madre che è malata E che quindi la potrà aiutare con le faccende domestiche Ma in realtà il suo scopo è quello di vedere se il fratello andrà a scuola o meno Quindi ragazzi oggi proprio ne succederanno delle belle come vi ho detto Intanto qui c'è Adele che sta scendendo per scrivere nel suo diario Si ho comprato anche a lei un diario perché appunto ce l'avevano i desideri E comunque ragazzi a quanto ho capito Oggi faremo un altro raduno Ah no che bello ragazzi mi sono dimenticata di piantare il frutto del drago Sono proprio intelligentissima Quindi a questo punto io intanto lo pianto qui Ovviamente lo pianto lo stesso e ne pianto 1 e 2 ragazzi E a questo punto non so Ci toccherà pescarlo nel lago Non oggi ma ovviamente si spera presto Sono le 8 Dovrebbe andare a scuola ma ovviamente Aspetta 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 mia cara tu non andrai a scuola Si Salta la scuola Lei infatti starà qui a letto Vediamo un po' cosa è spuntato Ammira le stelle con Sam No vabbè sembra fatta apposta Comunque adesso lei verrà qui Si siederà qui Tutti andranno a scuola E Sam si è svegliato E verrà qui al curare il giardino Innaffia Insieme al padre Intanto qui mi è piantato il frutto del drago Quindi speriamo bene Charlotte è qui che dorme Ignara di tutto Si sta godendo un po' di riposo E c'è la cara Elizabeth seduta Tanto le lascio il desiderio del raduno Perché oggi faremo anche un raduno E poi chiacchiera con Sam ragazzi Lei ovviamente fa finta di essere andata a scuola Si nasconde apposta per Oh mio dio Ok Come l'ho detto Si nasconde apposta perché sa che appunto Il padre deve andare al lavoro Quindi vedremo un po' cosa fa Intanto lui è qui che si occupa del perfetto Perfetto Leonardo è andato al lavoro Quindi adesso Sam Verrà qui Sta aspettando che appunto se ne vada il padre Se ne vada il padre Verrà qui Anzi viene un po' qui Mentre lei appunto verrà qui A vedere un po' la situazione Lui sta guardando per vedere Si mio padre ha preso la strada in fondo Lasciate perdere le macchine Quindi adesso lui se ne andrà a scuola Ed ecco qui ragazzi La prova tangibile Elizabeth ha visto Sam Andare a scuola Diciamo che Non se l'aspettava Ovviamente Sam pensava che la sorella fosse appunto Se a scuola Quindi non si aspettava una cosa del genere Aspettate un po' Nel tempo libero Adele ha fatto un disegno discutibile L'ha mostrata ai compagni Ha provocato varie risatine E ha rovinato il resto della giornata scolastica Controllo emotivo Educazione Prendete il disegno e castigatela ragazzi Perché purtroppo ci vuole questa cosa Comunque per il tratto compassionevole Non mi interessa Perché tanto Faremo dei disegni lì Ovviamente Lei è scioccata diciamo Stato già amanti i bulli Ora che Richard ha iniziato a prendere dei bei voti È finito nel mirino nei bulli Ma povero Deve affrontarli con una risposta sagace O ignorarli nella speranza che scelgano un'altra vittima Allora io conosco Richard Ed è il tipo da proprio ignorarli Quindi ignorali Ci vuole un bel po' di autocontrollo Ma ignorare i bulli funziona Nel giro di poco tempo si stancano E adocchiano un altro bersaglio Richard è dispiaciuto per la nuova vittima Ma del resto la scuola è una giungla a volte Ok Diciamo che Adele andrà dalla mamma di corsa E andrà a dirle tutto Ovviamente non dai false cattive notizie Ma ovviamente le dirà Alla fine Sam è andato a scuola Non ha seguito i consigli di papà Ovvero di lavorare nel campo Quindi diciamo che Dovresti punirlo Non è il figlio perfetto che tu tanto proclami E diciamo che Charlotte Sta diciamo Recitando Del tipo Oh mio dio Davvero Dovremmo dirlo a papà Dovremmo dirlo subito a papà Ha detto Adele No E lei Charlotte dirà No Non sono cose da dire Magari possiamo coprirlo E allora a questo punto Adele incavolata Dirà Disputa delle regole della casa Allora scusami mamma Allora io perché Devo essere costretta a seguire le regole Devo essere costretta ad andare a scuola Devo seguire i tuoi insegnamenti Eccetera Quando Sam può fare quel che vuole Seguire la scuola E disobbedire a papà Tu lo copri tranquillamente Cos'ho che non va Perché mi trattate tutti male Solo perché Una passione Che voglio portare avanti Io veramente Speravo Di poter essere La figlia che desideravi Io sono stanca Diciamo che Charlotte Ma cosa stai dicendo Elizabeth Non ha senso Quello che dici Sei sempre mia figlia Io Non ti tratterei mai Così Se ti rimprovero Lo faccio per il tuo bene Dicendo Questo non è il mio bene Voi volete solo il male Per me Sta dicendo ovviamente Elizabeth Voi coprite sempre I figli maggiori Ma Le figlie minori Allora Io non voglio Diventare una donna di casa E fare tutte le faccende Ed essere da schiava Ad un uomo Che nemmeno amo E che nemmeno voglio Sposare Diciamo Io voglio seguire Una mia carriera Voglio Voglio cantare Voglio ballare Voglio essere libera Quindi in questo momento Diciamo che Le urla contro Io sono stanca Davvero Io voglio più libertà Voglio essere come Sam Ovviamente Charlotte Proprio incavolata Ma incavolata davvero Si scuserà Però Appunto per farla riflettere Disciplina Il comportamento recente Castiga E Ora basta Dirà Charlotte Va bene che Va bene tutto Che non ti senti libera Eccetera Ma io ho una famiglia Da mandare avanti E non sto qui A lamentarmi Mia cara Quindi Nel momento Che tu la smetti Di fare la prima donna Della casa Non sei qui L'unica Non sei l'unica A soffrire Quindi Adesso Ti metto in punizione Metti in punizione Per aver disputato Ecco Adesso andrà in punizione Quindi Niente musica Tu adesso Non suonerai più il violino Se ti vedrò suonare il violino Andrai In collegio Quindi Per questo è tutto Cambia il pannolino sporco E badiamo Diciamo Alla bambina Coccola Poi nutri Allatta Ovviamente Diciamo che Elisabeth È molto Furente Guardate un po' Torto marcio Perché appunto Ovviamente La madre Diciamo che Ha avuto Ragione Riempi la ciotola E vieni qui A scrivere Sul tuo diario Scrivi nel diario In questo momento Diciamo che Lei è Molto Molto Nervosa Infatti Guardate L'empatia Come è diminuita Molto nervosa E sta cercando Di calmarsi Per non darla Vinta alla madre Perché ovviamente Se la madre scopre Che combina danni Ovviamente La cosa non va Piuttosto Elisabeth Sta inventando Diciamo Un piano Contro Sam Diciamo Un piano malvagio Dopo aver visto Appunto Il fratello Andare a scuola La prossima volta Che il padre O la madre Provererà Ovviamente Elisabeth Lei Svelerà Il segreto Di Sam Sì perché Si è stancata Diciamo Di questa famiglia Perfetta Di queste regole Assurde Che ovviamente La costringono A fare ciò Che non vuole Quindi Diciamo Molto Stanca Di tutto ciò Che sta succedendo E vuole causare Un bel putiferio Quindi sta scrivendo Tutto nel diario Sta notando Anche che ha visto Sam Uscire da scuola Guardate che sorrisi Malvagi Quindi diciamo Che adesso Si è sfogata Davvero Ma davvero Si è sfogata Quindi Intanto C'è Olly Che vuole giocare Qui c'è Charlotte Che intanto Dovrebbe Preparare Il pranzo Quindi Servi Il pranzo Anzi Cucina E vediamo un po' Cosa puoi cucinare Fai Uno stufato Del campeggiatore E poi ragazzi Più tardi Ho intenzione Di fare Un bel Un bel Raduno Con le amiche Perché Proprio Voglio vedere Un po' Se questa volta Hai il coraggio Di presentarsi Davanti a Richard Quindi usami il bagno E poi te ne sali sopra Vabbè che il violino Effettivamente Non puoi utilizzarlo Quindi magari Potresti giocare Con qualche gioco Gioca con un giocattolo Ciompi il mostrino Ah tra l'altro Ha anche la febbre Quindi è stata a casa Proprio per questo motivo Vabbè Lei sta mangiando adesso Sono tornati tutti Quindi adesso Oh non ci credo Lui non sta bene Quindi allora Mio caro Potresti usarmi il bagno Poi ogni volta Capitiamo proprio Gli incontri con Clomarie Quando Richard Appunto Non sta tanto bene Quindi lui diciamo Che ha intenzione Di divertirsi Quindi adesso Appenderà il suo progetto Scolastico E inizierà A lavorare Attentamente Ed è qui Che Elizabeth Farà compagnia Al fratello Diciamo che adesso Charlotte Ha visto appunto Che Sam E' arrivato in casa Quindi Cercherà di avvisarlo Non appena appunto Avrà finito Di lavare i panni Intanto Leonardo E' stato promosso Ad assistente Ad responsabile Guadagnerà 3 simoleoni In più All'ora Per un totale Di 23 Simoleoni All'ora Anche ricevuto Il seguente bonus 156 simoleoni Premio vendita Interazione Imita il capo Dov'è il mio caro Leonardo Oh ma guardate Com'è vestito bene Lasciando stare le scarpe Molto carino Ragazzi Non ci credo Mancano 21 giorni Per passare d'età Io mi sento malissimo Davvero Ma male davvero Diciamo che adesso I casini Si stanno creando A causa Di Elisabeth Cioè Ci sarà una bella Una bella gatta Da pelare In poche parole Cioè Ne succederanno Delle belle Intanto per Charlotte Mancano Due giorni Per passare d'età Assurdo A questo punto Direi di iniziare Il raduno Oh guardate Marian Ti prego Fammi vedere Se c'è Clomarie Ti prego Ma perché Clomarie Non si presenta Ragazzi Qui c'è Marian Che sta andando Come vedete Sta lavando i piatti Oh che brava ragazza E diciamo che lui Adesso la vedrà così E l'andrà A rallegrare Diciamo Chiedi della sua giornata Complimento Sincero Sono qui Che paro Guardate che carina Mi sono salutati In quel modo Niente ragazzi Clomarie Mi sa che Non ha intenzione Di Di passare da noi Sam appunto Charlotte Correrà subito Da Da Sam Gli farà una conversazione Profonda Ed ecco qui Che Charlotte Appunto Ha detto a Sam Fai attenzione A tua sorella Elizabeth Perché Ha scoperto Che tu Andavi a scuola Senza il permesso Di tuo padre Diciamo Aspettavi Che tuo padre Andasse Al lavoro E tu Ti potesti Dirigere A scuola Quindi fai Attenzione A che toni Utilizzi Con tua sorella Perché davvero Ho paura Che la situazione Possa degenerare Diciamo che Sam Ovviamente Ovviamente Sam Le dà ragione Quindi Cerca di essere Il più pacato Possibile Cercherà di essere Il più pacato Possibile Con Elizabeth Niente ragazzi Ci sarà qualche bug Che No Clomarie Ah pensavo fosse Clomarie ragazzi Ho le visioni Lui intanto Verrà qui A curare Il giardino No No Grazie Non vogliamo Feste Guarda Possiamo anche Terminare Il raduno Purtroppo Mi sa che Clomarie Non Sarà potuta Venire Appunto Al Raduno Perché Ci sarà stato Qualche problema Con la famiglia Sicuramente I genitori Non vogliono Farlo uscire Di casa Perché avrà Combinato Una delle sue Quindi Per questo Diciamo Ho paura Che Possa succedere Qualcosa Ora Nutri Allatta E poi Coccola Intanto Sam Farà i compiti E poi si dirigerà A curare il giardino Diciamo Col padre Anzi Prima farà evolvere Le piante E poi Innaffia Ed estirpa Le erbacce E adesso La piccola Visto che sono andati Quasi tutti A letto Scriverà Di nuovo Sul suo diario Scriverà appunto Di quanto Siano falsi La madre E il fratello Maggiore Sam Che Ancora Questa situazione Vuole che Sia dato appunto Un freno Diciamo Non vuole che Questa situazione Continui Aspettiamo Che finisca Di scrivere Padre intanto E qui E diciamo Che ha bisogno Della sua pausa Per il bagno Vedete Sam Sta aiutando Il padre Qui In giardino Diciamo Che lui stesso Si sta chiedendo Com'è possibile Che Che nonostante Il figlio Sia ad occuparsi Diciamo Del Del giardino Purtroppo Quest'ultimo Si è rimasto In queste condizioni Diciamo Che è un po' Preoccupato Del tipo Ma come mai Com'è possibile Questa cosa Mi sembra Un po' Strano No? Quindi diciamo Che non ci sta Ancora facendo Caso Però diciamo Che comincia A porsi Delle domande Perfetto Diciamo Che lei È così Sbadata Che userà Il bagno Essendo Molto Stanca Oddio Che sta succedendo Daphne Passa D'età E il Compliano Di Daphne Come vuole Il tempo Cosa sta Succedendo Tanto Cucciolli Che è molto triste Vabbè È il Compliano Di Daphne A questo punto Ragazzi Daphne Ve la farò Vedere Nel prossimo Episodio Allora Come vi ho già detto Elisabeth È salita Al piano Di sopra Non curante Appunto Diciamo Del suo Diario Quindi adesso Lui Andrà a prendere Un bicchiere D'acqua Apri Diciamo Che si andrà A prendere Fai un passo Veloce Acqua E vedrà Il Diario Di Elisabeth Sam Intanto È qui A far Questo Lui Andrà A farsi Un bel Bagno E poi Andrà Dritto A letto Lui Si prenderà Un bel Bicchiere D'acqua Perché Ovviamente Ha setato Eccetera E Sembra Fatto Apposta E adesso Lui Curioserà Nel Diario Ragazzi Perché Ovviamente Dirà Wow Ma Cos'è Questo Diario Qui Di mia Figlia Chissà Cos'è Cioè Non so Vediamo un po' Cosa Nasconde Questa Furbetta Di Elisabeth E diciamo Che lui È contento Se la ride Sta leggendo Gli altri Aneddoti È molto Contento Infatti Come ride Vedete Come se la ride Come vedete Leonardo Ha letto Tutto Il contenuto Del diario E ha scoperto Il segreto Di Sam E Charlotte Diciamo Che in questo Momento Leonardo È molto Deluso Da entrambi È anche Molto stanco Quindi Non se la sente Di far discussioni Eccetera Ma farà Passare Tutta la settimana Aspettando Che ovviamente La piccola Daphne Cresca E Vuole vedere Personalmente Se ciò Che ha scritto Elisabeth È vero Oppure no Oppure È uno stratagemma Soltanto Per farle litigare Quindi La prossima Volta Leonardo Andrà a vedere Direttamente Con i suoi occhi Se il figlio Sta mentendo E quindi In questo caso Andrà a scuola Nonostante Andrà a scuola Nonostante Il divieto Assoluto Del padre Oppure È solo Una menzogna Detta da Elisabeth Tanto per far Causare un po' Di problemi Alla famiglia Diciamo Diciamo che Lui adesso È un po' Preoccupato Non sa Cosa succederà Nella famiglia Non sa Adesso Come si evolverà La situazione Diciamo che Adesso Leonardo Sta cercando Di metabolizzare Il tutto Ma diciamo Che è Molto Molto Deluso Soprattutto Da parte Di Charlotte Non si aspettava Che mantenesse Questo segreto Che soprattutto Sperperasse Così I fondi Familiari Perché si sa Che se un altro Ragazzo Ovviamente Fosse andato A scuola I fondi familiari Sarebbero diminuiti Infatti Da 5.000 Diciamo che Lui sta facendo i conti Sono arrivati A 3.000 Simoleon Diciamo Ci è rimasto Davvero male Quindi Chissà cosa succederà Nel prossimo episodio Vi dico soltanto Che il prossimo episodio Sarà pieno Ma proprio Pieno Zeppo Di compleanni Vedremo Daphne Passare di età Vedremo Le bambine Quindi le gemelle Passare di età E tante altre cose L'unica cosa che però Mi ha dato fastidio È che appunto Clomarie Non arriva Ai raduni Qui in casa A questo punto Proverò a farlo In un lotto comunitario Per vedere se Questa cosa funziona Comunque Spero che questo episodio Vi sia piaciuto Se si lasciate Tanti mi piace E commenti Un bacio E Ciao 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 Grazie per la visione!